Assolutamente, anzi facciamo un in bocca al lupo a tutta la regia capitanata da Ristando Di Filippo, a tutti i ragazzi che sono qui, che ci coautorano sia con le immagini video e soprattutto anche con l'audio perché adesso iniziamo subito con la musica. Detto questo, assolutamente ci ritroviamo qui, compiamo come abbiamo detto nel vostro calore, nel vostro applauso a questi ragazzi, iniziamo subito con la musica e ascolteremo Oh La 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 di Grace Potter e questo è il titolo del primo brano, un brano molto ma veramente molto rock, a cantarlo è una ragazza frizzante e spumeggiante, la vedrete con un cappellino pronta davvero a deliziarvi con la sua voce, Angelica Ciccarese che apre ufficialmente lo spettacolo ieri, oggi e domani. Grazie Grazie. 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 Grazie.